benvenute e benvenuti ecco a voi un ulteriore fatto che dimostra la non sfericità acclamata della terra nella descrizione del video trovate il link di questo articolo vi traduco una parte cinque anni fa siamo riusciti a ritrarre per la prima volta le cornici delle alpi dai pirenei ed era proprio questa montagna la nostra meta dal canigù in questa nuova occasione l'obiettivo è stato quello di ritrarlo meglio e da più lontano dall'alto del no font e questo è il risultato le trop che crissa parzialmente il grande disco solare forse l'astro paesaggio fotografato più lontano sul nostro pianeta grazie alla peculiare geografia che si estende tra le alpi e i pirenei l'aria pulita e il sole l'immagine è stata scattata con una p900 da mont brett il 16 luglio 2019 alle 6 20 del mattino la distanza fra i due punti è di 408 chilometri il fotografo si trovava sul picco di no font alto 2851 metri l'obiettivo era la montagna tete delle trop alto 2961 metri secondo le dimensioni ufficiali della terra globo 3707 metri dovrebbero trovarsi dietro la presunta curvatura pertanto calcolando che l'obiettivo della montagna sia o è di 2961 metri dovrebbe trovarsi nascosto comunque dietro alla curvatura di 746 metri invece si vedono centinaia di metri della montagna qui vediamo un ulteriore conferma da una simulazione in base alle coordinate esatte della linea di vista per le trasmissioni radio per il presunto rigonfiamento della palla dalla distanza di 408 chilometri 407 virgola 7 per la precisione e secondo questo calcolatore non dovrebbe esistere alcuna possibilità di poter vedere alcuna vetta ovviamente i fanatici della rifrazione arriveranno a dire che la montagna in qualche modo selettivo si è inarcata sopra la curvatura della terra per mostrare nuovamente una terra piana se questa stupida spiegazione vi aiuta a nutrire la vostra illusione del globo continuate a vivere con qualsiasi non senso volete meglio se credete ricordate che in questi ultimi pochi anni avete avuto modo di capire che stanno prendendo in giro la popolazione mondiale per le persone ragionevoli invito a prendere visioni delle innumerevoli prove a vostra disposizione attraverso il fornito indice alfabetico che trovate sul sito web www.tinelli.eu buona visione e grazie del vostro prezioso sostegno dino